Un atleta sa che non può giocarsi tutto per una stupidaggine o un momento di disattenzione e quindi le nostre atlete, le nostre ragazze, le nostre campionesse sono estremamente attente alla contraccezione. I dati che noi abbiamo, non solo italiani ma anche internazionali, ci dicono che le atlete iniziano ad avere rapporti sessuali mediamente due anni più tardi. In altre parole, sono ragazze capaci di vivere le diverse stagioni dell'adolescenza dedicandosi prima all'amicizia, magari al piccolo flirt, magari al gioco della seduzione, perseguono l'obiettivo sportivo e quando hanno trovato il ragazzo giusto, che amano e da cui si sentono riamate, ecco che con quel ragazzo avranno il primo rapporto, già protetto da una contraccezione intelligente. Sempre i dati che noi abbiamo ci dicono che utilizzano di più il profilattico, hanno meno partner, sono molto meno promiscue delle coetanee e anche tendono a non usare del tutto l'alcol, la droga, le sigarette. In altre parole, tutti gli indicatori di benessere relativi al comportamento personale, allo stile di vita e anche al comportamento sociale sono molto più favorevoli, sani, positivi nelle atlete che non nelle ragazze che non fanno sport. Questa è una delle ragioni per quali abbiamo scelto come società italiana di ginecologia ostetricia le atlete come campionesse non solo sportive, ma pure campionesse di vita, come modello positivo da offrire alle nostre adolescenti, non solo quando stanno bene, ma anche quando sono in un momento di difficoltà. Perché la pratica dello sport è una delle uscite più sane di fronte alla depressione, di fronte alla solitudine, di fronte alla paura di non essere adeguati. Quando noi impariamo ad abitare il nostro corpo con gioia, con competenza, i nostri fantasmi, delle paure che abbiamo, si sciolgono e si sciolgono nei fatti e non solo a parole.